L'Italia sorpassa a destra Bruxelles e nell'attesa del via libera dell'Agenzia Europea dei Medicinali per prima nel vecchio continente produrrà il vaccino russo Sputnik V. L'accordo strategico porta la firma dell'RDF, il Russian Direct Investment Fund, e dell'ADNSRL, impresa di Caponago, non lontano da Monza, parte della multinazionale ADN Pharma e Biotech. 10 milioni le dosi che saranno prodotte entro la fine dell'anno. Secondo la Camera di Commercio Italo-Russa, che ha dato la notizia e condotto le trattative insieme all'ambasciata italiana Mosca. L'accordo, specificato in un comunicato, consentirà all'Italia di controllare l'intero processo produttivo e genererà nuovi posti di lavoro. Lo Sputnik non rientra al momento nelle nostre strategie e ribadisce intanto la Commissione Europea. In attesa dell'EMA, che sta verificando la conformità del vaccino russo agli standard dell'Unione Europea, sempre da Bruxelles ricordano, resta comunque possibile l'autorizzazione per uso d'emergenza, ma sotto la responsabilità dei singoli stati.